Ok, ora un nostro iscritto intervisterà un altro iscritto. Allora Giulio, nome finto, cosa ti ha spinto ad iscriverti a questo corso? Allora, prima di tutto la curiosità, prima di tutto, e poi la voglia anche di conoscere persone nuove e sperimentare tutto quello che si legge sul sito. E ci dicono di tecniche innovative che dovrebbero funzionare e che funzionano. Ma ti senti una persona migliore adesso? Quali miglioramenti hai ottenuto? Di sicuro la capacità e la sicurezza di andare da persone sconosciute, perfetti sconosciuti, perfette sconosciute e parlare in tranquillità senza avere nessun timore. Con quante ragazze hai interagito in questo corso? Beh... Solo pomeriggio, il giorno prima? In due giorni più di 50. Una situazione particolare, divertente e comunque significativa che ti è capitato durante il corso? Ma dai, te lo sai benissimo, andavamo in giro con i cani trascinati a guinzaglio, io avevo una mucca finta, ci fermavano tutte, è stato divertentissimo. E sei rimasto soddisfatto di questo corso? Certo, molto soddisfatto. Ma per quale motivo lo consiglieresti ad altri? Provate e poi mi dite, fidatevi. Ho un'altra domanda per te, ma è una domanda che non c'è nel fogliettino che mi hanno dato e volevo fartela perché ci tengo, ok? Ma quando tornerai a casa, come farai a gestire la rubrica? Ne comprerò una più capiente. Va bene dai, andiamo che ho visto due ragazze laggiù.